Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che potete trovare su Tumblr. Mi raccomando visitatelo perché lì potete leggere tutte le recensioni dei libri che leggo. Trovate il link al blog e a tutti i miei social qui sotto nell'info box e sempre nell'info box troverete anche tutti i link ai libri di cui parlerò in questo video. Questo nuovo video appartenente al gruppo dei video che parlano di libri con viaggi nel tempo. Trovate già nel mio canale un video dedicato ai viaggi nel tempo di genere fantascientifico classico, un video dedicato ai libri con viaggio nel tempo di narrativa generale, un video dedicato ai libri con viaggi nel tempo di genere romance. Oggi tocca a un gruppo di libri con viaggi nel tempo che sono purtroppo di difficile reperibilità perché non sono più stati ristampati da anni ma secondo me comunque vale la pena conoscerli e magari riscoprirli. Un libro che vi consiglio in questa lista è Ritorno al domani di Ron Hubbard. Ron Hubbard è un autore molto famoso che ha sempre delle visioni fantascientifiche un po' particolari. Per particolare intendo che è il fondatore di Scientology, quindi con questo direi che vi ho già detto molto sulla sua personalità e sui suoi libri, quindi prendetelo come volete. Fatto sta che io considero i suoi scritti fantascienza, quindi cose inventate, e un suo romanzo è appunto questo qui che si intitola Ritorno al domani. Questa storia si basa sulla teoria che i viaggi delle astronavi nel futuro dilateranno il tempo, quindi chi viaggia su queste navi in un certo senso viaggerà nel tempo perché viaggerà in un tempo diverso rispetto alle persone che rimangono sulla Terra o su dei pianeti. E siccome questi viaggiatori, questi astronauti, questi astronavi vivono praticamente in un certo senso fuori dal tempo di chi vive nelle colonie o sulla Terra, fanno sì da tramite tra questi due mondi ma allo stesso tempo sono delle persone fuori da entrambi questi mondi. Quindi questo concetto io l'ho sempre trovato molto interessante e abbastanza nuovo all'interno di libri con viaggi nel tempo. È un approccio un po' diverso. Certo non è un libro di facile lettura, ve lo dico. Va preso un po' con una mente molto aperta, però una volta che ci si immedesima ha un senso questa teoria della dilatazione del tempo e questi problemi che genera appunto a queste persone che sono tipo tagliate fuori dal tempo. L'ho sempre trovato molto interessante, però non è sicuramente un libro per tutti, quindi provate a capire se vi può interessare oppure no, perché come vi ho detto tutti i libri di questo gruppo sono di difficile reperibilità quindi prevedono che voi facciate delle ricerche in biblioteca o li dovete comunque cercare nei libri usati sicuramente perché questo non è più stato ristampato secondo me dai primi anni 2000, se non sbaglio. andavano di moda nei primi anni 2000 o comunque fine 1999 i scritti di Hubbard, dopo è passato di moda. Altro libro molto interessante, proprio come premessa, è I sovrani delle stelle di Edmond Hamilton, qui secondo me siamo proprio in piena fantascienza, stile anni 70, 60, quindi lui è l'autore di Capitan Futuro che io guardavo sempre quando ero piccola in cartone animato quindi l'ho sempre trovato veramente molto molto interessante come autore anche se purtroppo i suoi libri effettivamente risentono del passare del tempo e hanno un po' un sapore vintage, comunque secondo me andrebbe riscoperto come autore. Tutte le sue serie secondo me andrebbero riscoperte nonostante appunto risentano un pochino del passare del tempo. Ma in particolare per quanto riguarda I viaggi nel tempo vi consiglio la sua serie I sovrani delle stelle che è composta da alcuni libri, solo che dipende dall'edizione che riuscirete a trovare. In realtà sarebbe composta solo da due libri, però in alcune edizioni, Ieri Stampe, il secondo libro è stato diviso in più libri, quindi non vi so dire esattamente quanti libri troverete per questa serie. Sappiate solo che il primo libro si intitola I sovrani delle stelle e il secondo libro si intitola Ritorno alle stelle. Poi secondo me esiste anche un'edizione intitolata sempre I sovrani delle stelle che contiene tutti e due i libri, ma dipende da quello che riuscite a trovare perché questi veramente sono tanti anni che non è più stata ristampata secondo me dagli anni Ottanta, quindi sarà veramente di difficile reperibilità a Timo, però secondo me ne vale la pena. Allora, la storia è molto interessante. Per evitare una guerra galattica, Lianna, la sovrana di una galassia lontana, ha deciso di trasportare nel passato il principe dell'impero galattico, quindi prende la coscienza di questo principe e la fa viaggiare due secoli nel passato e la fa entrare nel corpo di Gordon, un uomo, un ormore. E la coscienza di Gordon dal suo corpo va due secoli nel futuro nel corpo di questo principe galattico. E quindi questo povero Gordon si ritrova nel corpo di questo Zart, principe dell'impero centrale della galassia, nel ben mezzo di una battaglia all'ultimo sangue tra l'impero e il tiratnico dominio della nebulosa oscura. Allora, premettiamo che se devo fare un paragone tra i libri di Edmund Hamilton e qualche altro libro o qualche altro film, forse vi avvicinerei un solo tipo ai film di Flash Gordon. È quel tipo di fantascienza, quindi è una fantascienza molto supereroistica quasi, con dei cattivi che sono proprio tutti cattivi e dei buoni che sono tutti buoni. Non ci sono molte sfaccettature di personalità, ecco, o molte cose da scoprire, è tutto chiaro fin dall'inizio. Però questo non toglie il fatto che rimanga comunque un libro molto interessante, con delle premesse molto interessanti e secondo me molto avvincente se riuscirete a trovarlo. Altro libro di difficile reperibilità con viaggi nel tempo che vi consiglio è Indietro nel tempo di Jack Finney. Qui abbiamo un giovane illustratore dotato di una fervida immaginazione che si ritrova coinvolto in un progetto governativo seguito da alcuni scienziati un po' strani che hanno, sembra, trovato il modo per viaggiare nel tempo in modo alquanto strano. Il fatto sta che Simon accetta di fare da cavia, ok? E viaggia nel tempo, nel passato fino alla New York del 1882. Peccato che una volta nel passato si innamori di una ragazza e ad un certo punto decida di cambiare il passato per impedire future manipolazioni dello stesso al fine di cambiare il futuro. Cioè, alla fine, come succede in molti libri con viaggi nel tempo, i protagonisti ad un certo punto si trovano in conflitto col futuro e soprattutto vogliono impedire al futuro di cambiare il passato nonostante il loro stesso viaggio e la loro presenza nel passato stia causando problemi. Però, questo qui è un libro molto carino molto più leggero degli altri che vi ho citato. Se riuscite a trovarlo, secondo me vale la pena di leggerlo perché anche questo ha un approccio al viaggio del tempo diverso da tutti gli altri libri che ho già citato. Invece, più simile allo stile di Edmund Hamilton e ai sovrani delle stelle e quindi a una fantascienza degli anni 60-70-80 è Le avventure di Conrad Stargard di Leo Frankoski. Anche questo, abbiamo un giovane polacco che si trova catapultato nel tempo fino alla Polonia del XIII secolo all'interno di un periodo quindi governato dal feudalesimo, dalla fame, dalle pestilenze insomma, che più ne metta però Conrad è il classico eroe che può fare tutto, può superare tutto grazie alla sua intelligenza e quindi è un libro sicuramente molto positivo e ottimista da questo punto di vista perché è un'ode alla capacità dell'uomo di superare qualsiasi tipo di difficoltà è un libro carino e comunque che ha avuto la sua importanza all'interno dei libri con viaggi nel tempo storicamente quindi se riuscite a trovarlo secondo me vale la pena provare a leggerlo invece approccio del tutto diverso ai viaggi nel tempo è L'uomo che restò solo sulla terra di Josh Gylan Simpson nel futuro Sam Magruder sviluppa un'interessante teoria sul tempo e durante un esperimento per rallentare il flusso del tempo scompare misteriosamente e dove finisce questo povero Cristo? finisce purtroppo nell'epoca paristorica unico essere umano in una valle popolata dai dinosauri e quindi come un novello Robinson Crusoe si industria per sopravvivere in questo ambiente ostico solo con il rischio della follia eppure avrà il coraggio di vivere questa avventura unica anche qui non è proprio il libro più ottimista che potete leggere però sicuramente è uno dei pochi libri che parlano di qualcuno che viaggia all'indietro fino alla pre-storia ed è un approccio molto diverso ai viaggi nel tempo anche qui è comunque un ode alla capacità umana all'intelligenza umana di poter sopravvivere a qualsiasi tipo di difficoltà quindi diciamo che di ottimista a questo qui si chiude questo gruppo di libri di difficile reperibilità che però volevo farvi conoscere e spero il video vi sia piaciuto se è così cliccate mi piace qui sotto troverete qui sotto nel info box il link ad alcune versioni di questi libri che però come vi ho detto secondo me potrete riuscire a trovare solo nell'usato o in biblioteca e come sempre vi auguro buona lettura e ci rivediamo al prossimo video dedicato ai libri con viaggio nel tempo